Lorenzo Nibutti, la settimana del derby è passata, una grande vittoria, importante per il morale per la classifica. Come state vivendo questi giorni che vi portano alla sfida contro la Samba? Sì, abbiamo emozioni bellissime dentro di noi e questo sicuramente ci aiuta a preparare al massimo la partita di domenica, che è difficilissima con la Samba del Tese che arriverà qua comunque arrabbiata perché viene da comunque tre sconvitte e quindi verrà qui a cercare punti. Che partita ti aspetti contro la Samba? Recupererete forse un paio di giocatori, forse vedremo una regione un po' più pimpante rispetto all'ultima settimana? Sì, giovedì dovrebbe tornare Marchi, Carbori e Martinelli tornano dalla squalifica, quindi siamo un po' tutti, a parte Lunetta che è stato operato ieri, però vi facciamo il più grande in bocca al lupo e lo aspettiamo presto con noi. Ma adesso siamo un gruppo che piano piano cresce sempre più, ci aiutiamo a vicenda e chiunque gioca è pronto per fare bene. Dopo una stagione positiva, ma dove sei stato poco utilizzato a Trieste, qui a Reggio invece hai trovato grandissima continuità e anche rendimenti molto alti, un po' come ti stai trovando? Sì, diciamo che all'inizio non mi aspettavo di giocare così spesso, ma speriamo di continuare così, ci sono tanti aspetti ancora da migliorare, speriamo di lavorare e mettere a punto un po' tutto. Penso che essere qua è una grande fortuna e spero di godermi al massimo questa opportunità e di non avere poi rimpianti e di dare il massimo.